Amici di Virgin Radio, abbiamo raggiunto Jared Leto a Londra, dove è stato impegnato nelle riprese del film Morbius, prima di rivederlo in tour in Italia con i suoi 30 Seconds to Mars live. 3 luglio a Roma, Cavea. 4 luglio a Padova, alla Geox Arena. Il 6 luglio a Pistoia, Piazza del Duomo. 7 luglio a Barolo. Abbiamo due più settimane in L.A. per filmare e poi iniziamo la ricerca per la tour e poi arriviamo in Italia e in altri paesi. Credo che stiamo giocando in giulio. Le prime due settimane. Sì, siamo. Abbiamo 4 show, credo, in Italia. Ma potrei vivere in Italia, che un paese incredibile. Le persone sono fantastiche, la città è incredibile, l'audizione è proprio la migliore. e siamo molto felici per questi show. L'anno scorso abbiamo giocato in Roma, in Milano e un paio di altri show. E' bello di essere capito di tornare in un anno dopo. Abbiamo giocato in Padova prima, e era assolutamente bello. E noi chiamavamo tornare in Italia, quindi giocare in summer in Italia è magari una delle migliori esperienze che potete aspettare. Siamo a Londra e stiamo parlando di Morbius. Cosa puoi raccontare sul film? Abbiamo finito in Londra. Abbiamo due più settimane in L.A. E' abbastanza diverso da altri caratteri di Marvel. E' abbastanza parecchia di quello che abbiamo visto prima, che è interessante. Cosa c'è di Jared in Morbius? Well, you know, Morbius, we have a lot in common. He's a guy who's dedicated his life to work. I mean, I'm not drinking that much blood these days. But he is, he is, he's a guy who's absolutely obsessed with his work. He's a bit of a perfectionist. He, you know, values his research. He's a doctor. He values that more than anything else in the world. And it's the most important thing to him is to try to help others. and that I find a really admirable quality. And, you know, he's got his dark side, too. But I really grew to love the character quite a bit. Cosa ti spaventa nella vita, nel mondo reale? I think some of my bigger fears have to do with, you know, missed opportunities. Certainly, that's a big one, is not taking advantage of time. You know, the most precious, I was talking to someone the other day, and they said, you know, there are two types of people. People who value time more than money, and money more than time. And for me, you know, I'm, you know, I look at time as a, as, as an opportunity and something not to be, um, not to be treated lightly. So, we're done now? Eh, no, just kidding. So, we're done now, we're done now, we're done now.